Cari figli, anche oggi vengo in mezzo a voi per dirvi di non avere paura. Come una madre consola i propri figli, così io vengo in mezzo a voi per consolarvi. Vi esorto a vivere quotidianamente la preghiera, perché molti di voi non hanno ancora scoperto questo grande dono. Solo così potete contemplare Dio e diventare figli di Dio e assaporare la sua misericordia. Coraggio, coraggio, coraggio. Non lasciatevi intimorire da tutti questi avvenimenti, perché vi allontanano da Dio. È da tempo che io vi rivelo che il mondo è in pericolo ed io sono con voi, affinché voi mi aiutiate a realizzare i piani di Dio. Pregate, figli miei, perché ho bisogno di tanti apostoli. Ho bisogno dei pastori, che con il loro sì, guidino le anime affinché diventino il sale della terra. Pregate, pregate, pregate senza mai stancarvi, affinché mio figlio diventi il vostro rifugio. Vi ringrazio per quanti vivono ogni giorno donando la propria vita. Imparate a vivere la vita dei santi, affinché diventiate santi e puri di cuore. Pregate, 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 perché ancora oggi mio figlio prende su di sé tutto il vostro dolore. Molti si preoccupano per le cose terrene e non vivono per l'eternità. Vi benedico tutti. Grazie a tutti.